A te l'ho messo i cortelli, ah? Stai facendo, taglio io, fatta là. Non le vuole fare io. Non lo serve. Sei pronto? Sì. Vai, al mio via, al mio via, al mio via. Uno, due, via! Vero, è meglio gli spaghetti. Ma che ne fai fatto tu, eh? La carbonara la faccio io. I paccheri vanno benissimi. Ma che si asce, non si asce la carbonara, tu? Che capisci? Sbatta l'uovo, forza. Dammi qua. Dammi qua, devi essere, guarda. Il movimento deve essere fluido. Si deve amalgamare tutto. L'uovo, col pecorino, il parmigiano, guarda, va. Guarda, una crema, lo capisci? Io ci metto anche il bianco. Ehi, sbagli. In Italia si mette solo il russo. E anche un po' di panna. Non ho addetto pane. Non ho panna. Oh, che lo ripete pure. Vabbè, ma stava scherzando. Ma tu vedi che io mi blocco, ma sono fatta bianca bianca. La parola panna mi fa un fritto in cuore, capito? Tu mi metti la panna di carbonara, tu sei una delinquenta, tu. E tutti i francesi che hanno vantato a panna. Ma perché sei la Nouvelle Cuisine? Ma cos'è la Nouvelle Cuisine? Cos'è? È un'invenzione noa. È solo una copia della cucina italiana. Noi inventiamo e voi copiate. Cos'è la Nouvelle Cuisine? Grazie a tutti.